La A con la freccia è tornata, dopo il successo della A110 Premier Edition che prodotta in serie limitata in 1955 esemplari, ricordo che 1955 è proprio l'anno di nascita di Alpine, ha fatto il tutto esaurito nel giro di soli cinque giorni, della quale in questi giorni sono cominciate le prime consegne. Alpine ha svelato allo scorso salone di Ginevra le due nuove versioni stradali della sua sportiva superleggera A110 che ampliano la gamma A110 Pure e A110 Legend. Pur presentando le stesse caratteristiche tecniche della A110 Premier Edition, la A110 Pure e la A110 Legend hanno due caratteri ben distinti. La Pure è il modello dell'A110 più incentrato sul pilota, quello più simile nello spirito all'originale, la famosa A110 Berlinette che ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1973. Le credenziali da Gran Turismo della Legend invece associate alla sua fruibilità quotidiana sono evidenziate dai sedili confortevoli, regolabili e dal gran numero di dotazioni. Entrambe poggiano sullo stesso telaio in alluminio superleggero e straordinariamente robusto della Premier Edition che sta alla base dell'estrema agilità e della precisione di manovra della A110. Montato immediatamente dietro l'abitacolo biposto, il motore biturbo 1.8 litri a quattro cilindri che eroga una potenza massima di 252 cavalli e capace di performance da brivido con le sospensioni a doppio triangolo che garantiscono che ogni versione della A110 offra tutta l'aerodinamica e la reattività che si richiede ad una vera Alpine. Le due nuove Alpine possono già essere preordinate tramite l'app Alpine mentre l'apertura ordini è prevista durante la prossima estate. In Italia la Alpine A110 Pure avrà un prezzo di listino di 56.100 euro mentre la Legend di 60.000 euro. Da oggi è possibile prenotare il test drive dell'Alpine A110 première edition presso i due nuovissimi showroom di Roma e di Milano attraverso il sito dedicato alpine.com.it dove i clienti potranno lasciare i propri riferimenti per essere ricontattati dal consulente Alpine di riferimento. Eleganza, agilità e autenticità Alpine A110 la leggenda è tornata in Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!